Notizia triste, formulo a nome della Cisle i sentimenti di profondo cordoglio alla famiglia di Guglielmo, le condoglianze a Maurizio, tutta la CGL, Epifani è stato un grande sindacalista, un politico bravo, competente, lucido, raffinato lascerà sicuramente un vuoto incolmabile perché pensiamo di ricordare il suo impegno sociale, sindacale ma anche il suo impegno politico e istituzionale, una figura esemplare per il nostro paese.